a monta due Poi o no niente niente, riloggio, fortuna considera che costano sempre sui lati cose, perché sui cosi, sui, come si chiamano? di commissione, di comi paghi commissione? Come c'è su parte, una cosa è 200 euro, io direi che si penano. Mi pare che non lo so, mi pare che anche uno, uno, due, tre per cento, non me lo... Considera che alla volta ci vendia una barca goccia, uno, una barca goccia. La Sicilia che risponde. 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 Grazie a tutti.